Una cosa che mi sconvolge, almeno nessuno poteva pensare che dopo centinaia di persone che sono venute a portare lì questa settimana, da domenica è stato un continuo, farla saltare poteva farsi male qualcuno, però niente si ricomincia, si ricomincia certo, la ricostruiremo eccetera eccetera, non gliela abbiamo vinta di sicuro, questo è poco ma sicuro. Neanche una settimana, è venitato sabato sera, oggi è venerdì, sono cinque giorni.